Da grande, voglio un'auto che può volare, per superare tutte le macchine. Così, con mamma e papà, faremo un sacco di viaggi. Poi, però, torneremo a casa, perché c'è chi ci aspetta. La nostra casa sarà bellissima, dove giocheremo tutti insieme. Pure Marco, anche se mi fa sempre i dispetti. A lui comprerò una moto, come quella che ha sul comodino, ma molto più grande. Prestiamo attenzione ai vostri desideri e diamo credito al vostro futuro. Agos. Semplice. Veloce. Credito.